Musica Si unanime dell'Aula la mozione sulla necessità di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, all'amorosità incolpevole e alle ristrutturazioni degli alloggi ERP. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di arti dell'Agenzia Toscana per l'impiego. Le ali del Pegaso e il nuovo riconoscimento del Consiglio regionale per premiare i giovani toscani under 35 è stato conferito al nuovo campione europeo di feretto Filippo Macchi. Il problema a casa proda in aula. Garantire il rifinanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti a partire dal Fondo Sociale per l'Affitto e dal Fondo Morosità Incolpevole essendosi dimostrati nel corso degli anni strumenti efficaci per rispondere al disagio abitativo di un'affitta rilevante di popolazione. Questo uno degli impegni chiesti alla Giunta regionale presso il Governo nazionale nella mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico, primo firmatario del capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sulla necessità di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, all'amoresità incolpevole e a ristrutturazione degli alloggi ERP. Nell'atto che l'Aula ha votato all'unanimità, si chiede inoltre che venga previsto uno specifico canale di finanziamento finalizzato a sostenere le spese per la ristrutturazione degli alloggi di risulta, per velocizzare i tempi per l'assegnazione di tali immobili e dare risposte concrete alle famiglie beneficiarie in attesa dei alloggi ERP. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il Fondo per il Contributo Affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il Fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. E abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate, integrative, del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. Apprezziamo queste mozioni, ma occorre capire se sono atti presentati per fare campagna elettorale su questo tema o se è la vera volontà di chiedere al Governo nazionale di rifinanziare questi fondi, ha dichiarato il consigliere Francesco Torselli. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il Governo ha fatto, perché è vero che il tema del contributo affitto è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitto, ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico toscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la Regione Toscana, perché la Regione Toscana, che è la proprietaria di quel bene che è rappresentata alle case popolari di tutta la Regione, non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate, arriva il Governo Meloni e finanzia tutto. Il Governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi, ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico, la Regione Toscana e la fattispecie. Questo è andato a buon fine, gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta, perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il Fondo per il Contributo Affitti. Diego Petrucci ha ricordato qualche numero. In Toscana ci sono circa 50.000 alloggi popolari, dei quali oltre 3.000 sono vuoti. Siccome uno studio dell'assessorato dice che ci vogliono 20.000 euro per ristrutturare ogni alloggio e quei soldi non ce li abbiamo, dovremo permettere a chi già ci vive di riscattarli ad una cifra media di 40.000 euro, ha detto Petrucci. Quando si parla di emergenza abitativa non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti, non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturarli. Noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive da almeno 18 anni negli alloggi popolari e con il ricavato di quel riscatto, ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì da almeno 18 anni possa acquistare quell'appartamento, con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti ma che non possono essere assegnati e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani. Sono a favore delle misure di sostegno all'affitto e all'amoresità incolpevole, ha affermato Giovanni Galli. Sarebbe opportuno, aggiunto, che il governo investisse un miliardo sulle case popolari in tutta la nazione. Mi sono permesso, tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove case popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo. Spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto. Arti via libera al bilancio Si chiude in pareggio il bilancio di previsione 2023 di Arti e l'Agenzia Toscana per l'impiego. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione con la quale esprime le parere favorevoli al bilancio con 19 voti favorevoli di Partito Democratico e Italia Viva e 7 voti contrari di Lega Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana domani. È stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Laria Bugetti a illustrare in aula le caratteristiche del bilancio di Arti. C'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività. Quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo che la Regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori ma anche delle imprese artigiane e imprenditoriali. Il ruolo dell'Agenzia è quello di garantire l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di mercato del lavoro tramite la gestione dei centri per l'impiego e il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro in termini di progettazione, organizzazione ed erogazione degli interventi. Nel 2022 l'Agenzia aveva servito circa 16.000 aziende, 239.000 utenti e attivato 619.000 iniziative di promozione all'occupazione e inserimento nel mondo del lavoro. Riguardo al piano degli investimenti programmati per il triennio 2023 e 2025 sono tre le tipologie di intervento acquisti di licenza software, acquisti di dotazioni strumentali di arredo e manutenzioni straordinarie su beni di terzi. Se c'è un tema al quale dobbiamo riservare attenzione è proprio quello delle politiche del lavoro, ha detto la consigliera Tozzi. Sicuramente l'Arti è oggi un'agenzia regionale chiave se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo, soprattutto che è legato all'aumento del personale. Si parla in Toscana di circa 1.058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in arti perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte di trovare un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero. Ecco, tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse a partire dalla formazione e dalle politiche attive. E soprattutto, diciamo, oggi anche alla luce della riforma sacrosanta dell'edito di cittadinanza si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese. Per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile del quale poco si accenna. Voto positivo anche da parte d'Italia Viva. Voto positivo da parte d'Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti che sono delle politiche di carattere regionale che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. Per la consigliera Galletti è importante colmare la distanza tra domande e offerta di lavoro. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavoro stagionale devono fare, si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta e in questo la Regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione, formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze e la Regione Toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. A Filippo Macchi il premio Ali del Pegaso. Premiare i giovani talenti toscani, le eccellenze della Regione, quelle ragazze e quei ragazzi che ce l'hanno fatta, come ha sottolineato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. E' questo l'obiettivo del premio Ali del Pegaso, consegnato per la prima volta nei giorni scorsi nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso al campione europeo di Ferretto Filippo Macchi. Un premio proposto dall'ufficio di presidenza e votato dall'Aula che nasce come riconoscimento per le giovani e i giovani under 35 che si distinguono in tutti i campi e che questa volta è andato un protagonista del mondo dello sport. Noi abbiamo voluto premiare le eccellenze, i ragazzi che ce la fanno, Toscani, e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento, le Ali del Pegaso. E' un modo per dirgli di volare in alto, di continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni. E' un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino. Questo premio nasce in collaborazione con Polimoda che lo ha realizzato. E oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadini, di ragazzi e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più. E vogliamo premiare Filippo Macchi, appena diventato qualche settimana fa campione europeo di Fioretto. Conosco Filippo personalmente da bambino, so quanto impegno, quanta passione, quanta dedizione. La tenacia e ai ragazzi più giovani un messaggio. Filippo è caduto tante volte ma poi ce l'ha fatta. E questo è il senso del motivo di questo riconoscimento. Ci si può cadere, ci si può rialzare e ce la possiamo fare. Il premio è nato in collaborazione con Polimoda, l'Istituto di Moda di Firenze e a realizzarlo è stata la giovane studentessa armena Ani Cacciatrihan che è intervenuta in collegamento dal suo paese. Visibilmente emozionato e accompagnato dai familiari, Filippo Macchi ha ritirato il riconoscimento e ricevuto la bandiera della Toscana ringraziando il presidente Mazzèo, il consiglio regionale per questo importantissimo premio. È un grandissimo riconoscimento e ringrazio il presidente e amico in realtà Antonio Mazzèo per avermi invitato qua. È stato un percorso che mi ha portato alla conquista del mio primo titolo tra i più grandi, anche nonostante sia molto giovane, a soli 21 anni e spero che ce ne siano altri nei prossimi anni, se non mesi. È un percorso che inizia appunto tanti anni fa, fin da quando sono piccolo ho sempre praticato questa disciplina, sono sempre stato appassionato di scherma e è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me. Negli ultimi due anni e l'ultimo anno e mezzo in realtà il nostro CT, Stefano Cerioni, che è un grandissimo CT, è riuscito, ha puntato tanto su di me, ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta. A partecipare alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli. Lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie, questa è una storia che si rinnova nella scherma, ovviamente un riconoscimento di una tradizione che ormai è evidente che è nel DNA, nel sangue dei Toscani e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale vuole dare nel proprio Palazzo del Pegaso per dimostrare la vicinanza allo sport, ai valori e soprattutto premiare le espressioni dei giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale.